Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPIRI. In A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Si informa che il bivio A1-11 è chiuso per lavori provenendo da Roma in direzione nord. Spostandoci sulla FIPIRI per lavori, svincolo di Montelupo-Fiorentino chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. A Firenze da martedì al via la seconda fase dei lavori di requalificazione in via Portarossa. Il tratto da via Calimala a via Pellicceria resterà chiuso fino a metà luglio. Ed è tutto, buon viaggio! A Firenze da martedì al via Pellicceria